Allora facciamo un po' il punto della situazione. Massima allerta, nessuna paura, ma sicuramente attenzione. Sicuramente attenzione, nessuna paura, dobbiamo comunque essere attenti su quelli che sono i sistemi di precauzione. In questo momento abbiamo questi sei casi che provengono tutti da contatti con infetti provenienti da altre regioni, quindi non abbiamo un focolaio nella nostra regione. Sono tenuti sotto controllo circa un centinaio di persone che sono in isolamento domiciliare, quindi telefoniamo per sentire come si trovano. I tamponi vengono fatti regolarmente. Diciamo che la situazione è sotto controllo. C'è una rete fatta da medici di medicina generale, medici della continuità assistenziale, specialisti, un sistema per poter accogliere eventuali altri numeri tra malattie infettive e terapia intensiva. Diciamo che il sistema è pronto, speriamo che non evolva ulteriormente, però non ci lasciamo prendere dalla paura e soprattutto facciamo in modo che il percorso venga avviato tramite i propri medici di famiglia o anche telefonicamente con i nostri servizi non andiamo al pronto soccorso.